Drago Freebooter, un canale illegale, ma questo video è bello Figo figo, beh ogni tanto vedo la tua posizione che sei a Milano in una via ho capito, cioè ho capito dove è la casa di anni Sì è là dove abitavo, vado sempre lì Quella vicino all'old tra l'altro Sì, che tu c'è scritto sono a casa che cazzo mi guardi Sì 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 sì, assolutamente Assolutamente, e beh tu non metti mai il nome della posizione, è figo, io in qualunque posto vado ho la posizione fissa, lavoro No, non lo metto, però è geniale È geniale Anche perché sono all'old Sì, sono all'old, io scrivo, cioè, ah l'hai visto sono all'old? Sì Ah certo, certo, sono all'old, oppure quando sono a casa di mia nonna scrivo casa nonna dai e tutta Quando sono a casa di mio padre e mia madre Nonna l'avevo visto Sì, è perché ci vado poco Casa mio padre, casa spappe guf, lavoro, studio, tutto, 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 tutto Beh, mi interessa che i miei amici siano partecipati alla mia vita, a parte che ormai il mio dovece l'ha veramente anche È geniale, dov'è? Non capisco perché non è così sradicato Dovrebbero avercelo tutto Beh, io però ce l'ho un po' grave Cioè, sai quanti contatti ho su dove? 263 Oh, gravissimo Sì, sì, sì Ma tu conosci 263 persone alle quali hai chiesto la posizione, sono tantissime Sì, 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 certo, certo Cioè, come fai ad avere quella confidenza con 200 Ma sì, lo so Sto scherzando, sto scherzando, Giulia Io ho alcuni da Ah, ok 263 persone su dov'è? Cioè, la mia vita è... Ciao, piacere, dov'è? Grazie Cioè, che cazzo di vita faccio, no? Ne ho 20, 30 50 massimo Forse una 60, però comunque non 200 Ma ma che 60 sono comunque da... Vabbè, ma perché faccio una collezione e poi mi sono messo lì ad aggiungere tutte le foto profilo a tutti Mi sono messo lì tipo tre ore dalla mia giornata e ho messo tutte le posizioni Quando uno è a casa, ho segnato che è a casa Quando uno è al lavoro, ho segnato che è al lavoro In base alle loro posizioni, delle giornate precedenti Alle giorni in cui passano più tempo della loro vita Per esempio, Nicky, quando è nella casa Milano, ho scritto casa Milano Quando è in casa Veneto, ho scritto casa Veneto Quando so che sta facendo un lavoro, magari per la DJ, scrivo è a lavoro alla DJ Cioè, mi impegno, capito? Che miseria E lo so, è la concorrenza La contributa è la concorrenza